Buongiorno a tutti, è venerdì, è venerdì, fantastica venerdì, stasera dopo tutta la cena eccetera mi ficcherò nel divan Engie e mi sparerò San Re-Mengie e pensando già che mannana sta, no, sta al trabajo ma si puede dormir, quindi ragazzi che dire, che dire, aspettiamo questo fine settimana ci sarà una surprise, vedremo che surprise farò e mio marito compie un po' di anni in questo periodo, per cui sto cercando di fargli una surprise, vediamo se ci riesco, tanto lui non guarda i social per cui sarà veramente una surprise, anzi aborre i social e quindi mi prende sempre per l'ukulu, bene ragazzi arrivederci, buon pomeriggio, statemi bene, siate quello che potete essere.